Vincenzo, che cosa hai visto ieri pomeriggio? Tutto ad un tratto è diventato nero, buio e dopo dalle montagne là in fondo si è vista proprio la nube di pioggia con le forti raffiche di vento che venivano verso di noi, verso la valle. E tutto ad un tratto sentivi il rumore degli alberi che si rompevano, dei tetti che si scoperchiavano e come potete vedere anche là in fondo sì, ci sono stati danni. E tu hai fatto il video che è diventato simbolo di questo evento drammatico che ha richiamato Vaia e Vaia quattro anni fa qui, anche qui, ha lasciato molti segni. Sì, sì, di fatti io mi trovavo qua sotto, stavo spostando le macchine per paura della tempesta e in quella mi sono trovato davanti lo scenario, quindi ho acceso il telefono e ho filmato. Mi pareva una cosa importante e quindi l'ho filmata.